La Gasperini che in queste ore ricorre avrà sentito anche lei, forse anche pronunciata, che spesso è stata accostata a lei, abbinata a lei con accezione virtuosa, che è plus valenza. Quante volte abbiamo fatto il calcolo di tutti i giocatori che sono passati alle sue mani e poi hanno fatto la fortuna delle proprietà che avevano lei come allenatore. Adesso invece se ne parla con tutt'altra accezione. Vorrei sentire da lei se ce lo ha un parere su questa faccenda, perché è un tema anche di sostenibilità del nostro calcio, di valorizzazione dei giocatori, e di crescita dei giocatori. No, ma guarda, questa è una situazione che si è creata nel calcio. Io sono un uomo di calcio, quindi un uomo di campo. Io credo, sono felice quando un ragazzo arriva all'Atalanta e poi lo vedi crescere, andare in una grande squadra, per la società una grande valorizzazione che gli permette poi magari di rinforzarsi oppure di rigenerarsi se non riesci a trovare talenti uguali. Questo è il mio compito. Il resto è nato da situazioni fuori campo. Io della Juventus sono stato tanti anni e ho ricordo di quelli che hanno vinto i campionati del mondo dell'82, quei grandi giocatori, i trappattoni, poi dopo quando ho iniziato a allenare dei Lippi, degli Ancelotti, dei Ventrone, dei Vialli, di Lempiero e di tutti gli altri giocatori che c'erano, e lì mi hanno permesso di formarmi. Tutto il resto è veramente… non voglio neanche che sia di mia competenza. Lo vuoi tu invece, Andrea Di Caro, o vuoi cambiare argomento? No, intanto ci siamo persi una battuta di Gasperini mentre parlavate, perché lui ha detto quelle vere, però, di Plus Valenza, legate a quelle dell'Atalanta. Anche perché a volte l'Atalanta è stata tirata in mezzo malamente, bisogna anche distinguere. L'Atalanta è stata tirata in mezzo in modo molto errato su quello. E quindi io specifico per l'Atalanta, non per il resto. L'Atalanta è stata tirata in mezzo in mezzo in mezzo, allora... Grazie.